Siamo .NET Code, siamo con la community Microsoft, io mi presento, sono Luca, Fabio, noi siamo i tre rappresentanti della community su Roma, lo scopo della nostra community è quello di far conoscere alle persone, ma in particolar modo gli studenti, lo sviluppo di applicazioni su tecnologia Microsoft. Oggi siamo qui a Labriola, avremo il primo incontro con gli studenti, abbiamo organizzato sei incontri, insieme alla Fondazione Mondo Digitale ci inseriremo nel progetto Meet Non It, a breve cominceremo questo percorso e i ragazzi impareranno a sviluppare un'applicazione all'ambiente Microsoft dall'inizio alla fine e vedremo a breve il risultato.